Dopo le manifestazioni weekend contro il Green Pass in diverse città italiane, al governo arriva un nuovo appello a vaccinarsi per scongiurare un'impennata dei contagi. Un italiano su due ha avuto la doppia dose. Restano da scioglieri nodi, scuole e trasporti. In Francia intanto via libera l'estensione del pass sanitario. E' corsa contro il tempo per domare gli incendi che da due giorni stanno devastando l'oristanese. Oltre 20.000 gli ettari andati in fiamme, 1.500 gli spollati. Ora i rughi minacciano anche Makomer, case interi paesi sotto assedio, animali carbonizzati. La regione Sardegna ha dichiarato lo stato d'emergenza in arrivo. Altri canadè dall'Europa. Attenzione alle stelle in Tunisia. Il Presidente ha sospeso il Parlamento e si durato il Premier dopo che migliaia di persone sono scese in strada per protestare contro la gestione dell'emergenza sanitaria. Il partito islamista al governo accusa un colpo di Stato. Il Presidente si è poi unito alla folla, riversatasi in strada nel centro di Tunisia. Grande notte azzurra ai giochi olimpici di Tokyo. Lo storico argento conquistato dalla staffetta 4% stile libero maschile. Il bronzo di Niccolò Martininghini e Centorana si sommano i bronzi di ieri del sollevatore Zanni, della ciclista Longo Borghini e della giudoca Giuffrida. Le medaglie italiane ora sono 7. Buongiorno, benvenuti alla prima edizione della Tg. La 7. Dunque i dati relativi alla pandemia si confermano in risalita con il tasso di positività che è andato al 2,7%. Il leggero aumento anche le ospedalizzazioni. Si fa dunque sempre più importante e decisivo a procedere sulla strada delle vaccinazioni che entro luglio dovrebbero riguardare, così come aveva previsto il commissario straordinario Figliuolo, il 60% della popolazione. Intanto si registra anche la risposta massiccia e convinta da parte delle fasce più giovani. La curva continua a salire. In base agli ultimi dati i nuovi positivi superano i 4.700. L'indice di positività è salito al 2,7%. Sette le vittime. In aumento per quanto lieve anche i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. A questo punto si fa più pressante l'invito degli esperti alla vaccinazione. L'unica strada possibile, afferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, che spiega L'efficacia dei vaccini è altissima. Il 95% di chi finisce in ospedale o muore per il Covid non ha ricevuto neppure una dose. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dice che è la più grande arma di libertà che abbiamo. Un forte impulso alle vaccinazioni è arrivato dall'ultimo decreto legge. Le regioni continuano a segnalare un notevole incremento di prenotazioni. Si va dalla Puglia, dove sono raddoppiata, a Lazio, dove nelle ultime 48 ore se ne contano 10 volte di più rispetto ai giorni precedenti. Ora siamo al 55% di cittadini immunizzati. Entro fine luglio arriveremo all'obiettivo del 60%, conferma il commissario Francesco Figliuolo. Per chi si è già vaccinato è scattata invece la corsa al certificato verde. Chi non lo ha ricevuto direttamente dal Ministero della Salute fa lunghe file in farmacia. Con il presidente di Federpharma che denuncia, ormai ci siamo trasformati in copisterie a discapito di chi ha vero urgenze. Ma con i dati che continuano a crescere bisogna guardare anche la ripresa di settembre, ciò che non è rientrato nel nuovo decreto legge. A partire dai trasporti, entro la fine dell'estate è ormai quasi certo che la certificazione verde sarà obbligatoria anche sui mezzi a lunga percorrenza, treni, aerei e navi. Il fronte caldo della campagna vaccinale torna a essere la scuola. Il governo è in attesa di un rapporto dettagliato sul personale non ancora immunizzato, ma le prime cifre si aggirano intorno ai 220 mila non vaccinati, in media il 15%, con punte del 43% in Sicilia, 38% a Bolzano, 35% in Liguria. Nei loro confronti l'Associazione Nazionale dei Presidi si era espressa a favore dell'obbligo vaccinale. Intanto, per passare le vacanze in tranquillità e poi tornare a scuola a settembre in presenza, sono proprio i giovani a vaccinarsi. Nell'ultima settimana 118 mila nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni, 230 mila fra i 20 e i 30, cifre di tre volte superiori alle adesioni che si registrano fra i 50 e i 69 anni e certamente influenzate dall'obbligo di Green Pass per accedere ai luoghi di svago annunciato da Draghi giovedì. I paesi europei si differenziano ancora per le strategie e c'è chi sceglie un approccio cautelativo per gli adolescenti come la Germania e l'Inghilterra che fra i 12 e i 19 anni riservano il vaccino ai pazienti fragili. Per il virologo Pregliasco la sicurezza c'è, è confermata ed è utile in questa fase la vaccinazione di tutti. In Italia il prossimo obiettivo è il 60% di ragazzi in età scolare coperti a metà settembre per tornare a scuola in presenza, una platea di circa 1 milione e 400 mila persone da vaccinare esclusivamente con Pfizer e presto, dopo l'autorizzazione dell'AIFA, anche con Moderna. Intanto c'è da registrare la dura presa di posizione della ministra Lamorgese nei confronti di chi manifesta contro i provvedimenti del governo in materia di prevenzione e lotta alla pandemia. In particolare ha sottolineato la titolare del Viminale questa indignazione quanto avvenuto in alcune piazze dove si è paragonato il Green Pass alle leggi razziali. Sulle proteste contro il Green Pass la ministra dell'interno Luciana Lamorgese non usa mezzi termini. Sono da condannare tutte le manifestazioni peraltro non autorizzate in cui si attaccano i vaccini e si urlano slogan violenti contro i provvedimenti varati dal governo per tutelare la salute pubblica, il commento della responsabile del Viminale riportato dal Corriere della Sera. D'essa indignazione, sottolinea ancora Lamorgese, quanto avvenuto in alcune piazze nelle quali sono stati esposti cartelli che paragonavano il Green Pass alle leggi razziali. Le parole della ministra arrivano a 48 ore da una nuova mobilitazione dei manifestanti Novax e No Green Pass. Nuove proteste, questa volta preannunciate alle questure, andranno infatti in scena a mercoledì nelle principali città italiane. E se la posizione del governo è netta, dal perimetro della maggioranza il leader leghista Matteo Salvini continua a smarcarsi dalla decisione di introdurre il Green Pass e ammicca ai manifestanti. Sono piazze da ascoltare e da capire, non da attaccare, piazze vive e sorridenti. E dopo domani alla fiaccolata anti-Green Pass a Roma parteciperanno anche alcuni parlamentari leghisti, Claudio Borghi, Armando Siri e Simone Pillon, ma non la Lega come partito né Salvini. Dal PD tuttavia vogliono vedere il bicchiere mezzo pieno. Vaccinandosi Salvini ha fatto un passo avanti, dice in un'intervista al Corriere Enrico Letta. Sui social è stato criticato, gli è costato con il suo mondo, quindi il mio giudizio è positivo. Ora un patto di maggioranza sui vaccini propone il segretario Demma chiedendo che tutti i candidati alle amministrative abbiano ottemperato gli obblighi vaccinali per mandare un messaggio chiaro agli indecisi. Ma sul Green Pass non si discute, soltanto in Italia, perché in Francia, dove ieri sera è arrivato il definitivo sì da parte dell'Assemblea nazionale, appunto all'estensione del pass sanitario, oltre 150.000 persone ieri sono scese in piazza per manifestare il loro dissenso nei confronti di questa decisione. Non sono mancati tafferugli e anche arresti. Le manifestazioni francesi di sabato contro la Carta Verde hanno portato in piazza oltre 160.000 persone in tutto il paese, 71 gli arresti, 24 solo a Parigi. E il Senato, riunito d'urgenza, ha votato il progetto di legge che rende in casi specifici obbligatoria la vaccinazione, adottando però una serie di modifiche al testo varato dall'Assemblea nazionale, a partire dall'esenzione dei minori dal certificato, la deroga per i centri commerciali e gli spazi pubblici aperti e soprattutto la subordinazione del pass alla proroga dello Stato di emergenza sanitaria che ora dovrebbe essere esteso fino al 15 novembre. La frattura tra le deliberazioni dei due rami parlamentari è stata ricomposta nelle ultime ore con l'accordo raggiunto da deputati e senatori. La possibilità di licenziamento per i lavoratori senza pass è stata volita, ma la certificazione sarà dovuta negli spazi esterni dei locali. Al disegno di legge manca adesso solo l'adozione definitiva, che dovrebbe comunque contenere i punti principali annunciati il 12 luglio dal Presidente Macron. L'immunizzazione obbligatoria dovrebbe essere in sostanza confermata per badanti, assistenti agli anziani, vigili del fuoco. Poi da inizio agosto il ciclo completo di vaccinazione, il test recente negativo oppure il certificato di guarigione dovrà essere esibito in bar, rizzonanti, fiere, mostre, istituti medici, aerei, treni, pullman a lunga percorrenza. Il percorso legislativo in ogni caso prevede un ulteriore passaggio al Consiglio Costituzionale per evitare i dubbi sulle presunte violazioni dei diritti civili considerate le proteste del weekend. E ora spostiamoci in Sardegna dove la situazione è sempre più drammatica a causa degli incendi che hanno già distrutto 20.000 ettari di territorio, 1.500 almeno le persone spollate. Oggi l'Unione Europea invierà 4 Canadair per cercare di domare i rughi che continuano a devastare l'isola. Il fumo fitto rende l'aria irrespirabile, i bagliori rossi dei rughi ovunque, boschi e arbusti ridotti in cenere. In Sardegna sono stati divorati dalle fiamme circa 20.000 ettari di territorio. Un incendio di proporzioni enormi di vampato nel Montiferro ha percorso circa 50 chilometri, inghiottito liveti, campi coltivati, pascoli, aziende agricole, distrutto case e ancora non è stato domato e minaccia anche Macomera. Lambisce centri abitati e aziende, la Giunta regionale ha approvato lo stato d'emergenza e chiederà al Governo un sostegno economico immediato per ristorare i danni e avviare un grande progetto di riforestazione. Dall'Oristanese all'Ogliastra 1.500 persone sono state sfollate e inseguite dalle fiamme da un paese all'altro, compresi gli ospiti di una residenza per anziani. Alla richiesta d'aiuto del Presidente della Regione Solinas all'Europa ha risposto subito la Francia che ha inviato due Canadere e altri due sono in arrivo dalla Grecia. Al lavoro per contrastare le fiamme ci sono 7.500 persone tra corpo forestale, vigili del fuoco e protezione civile. I velivoli e mezzi da terra non riescono a spegnere il ruoco gigantesco. Quando sembra che sia stato soffocato, spuntano nuove fiamme e riprende vigore. Alimentato dal vento che si incanalano i boschi dalle alte temperature. L'ultimo ruoco nella zona divampò 27 anni fa, era l'agosto del 1994, quando un incendio, risultato poi doloso, cancellò boschi e pascoli. La zona da dove sono divampate le fiamme è la stessa, tra Bonarcado e Santo Lussurgio. Allora si salvò stata Ancamanna, l'olivastro millenario patrimonio della Sardegna intera. Oggi la furia del fuoco ha spazzato via già il doppio del territorio e distrutto quell'albero con i suoi 2.000 anni di storia. Questa sarà una settimana decisiva per la riforma della giustizia, sulla quale il premier Mario Draghi aveva preannunciato la fiducia, senza escludere peraltro la possibilità di alcune modifiche tecniche al testo elaborato dal governo. Non c'è però da trovare un punto di mediazione all'interno della maggioranza con i 5 Stelle sul tema della prescrizione. Niente strappi all'orizzonte, sulla riforma della giustizia però si tratta, ma all'interno di un perimetro ben delimitato, così come vuole il premier Draghi, che concederà solo modifiche tecniche al testo prima della fiducia annunciata per la Camera. E questo già surriscalda il clima, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, che sulla durata dei processi non accetterà qualche limatura. La prescrizione resta dunque il nodo del confronto tra Palazzo Chigi e il leader in pector e dei pentastellati Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio smentisce attraverso il suo staff le ricostruzioni apparse ieri sul Fatto Quotidiano, che gli attribuivano la volontà di uscire dal governo, ma sulla necessità di cambiamenti fuori i reati di mafia dalla riforma, tiene il punto. Sul processo penale, fa sapere, si lavora ad una mediazione con Draghi e la guarda sigillica Artabia, anche per difendere la leadership che chiede al Movimento di confermare nel voto del 2 e 3 agosto prossimi. In settimana Conte tornerà ad incontrare i parlamentari 5 Stelle per fare il punto sui vari provvedimenti aperti e sulla strategia da adottare per sedare i malumuli interni sulla riforma della giustizia. A confermare la mediazione in corso è anche il sottosegretario all'interno Sibiglia. Sono certo che nessuno sia disposto ad accettare che vi siano sacche di impunità in Italia, in particolare se si tratta di mafia, argomenta l'esponente 5 Stelle. Il PD scelga se seguire l'irresponsabilità di Conte o scegliere Draghi, la provocazione del leader di Italia Viva Renzi, che torna ad attaccare i 5 Stelle. Sono il nuovo attacca, afferma, dove si siedono, si incollano. Mentre Forza Italia, con la ministra Gelmini, promuove la riforma Cartabia, con la quale, aggiunge l'esponente azzurra, abbiamo archiviato il fine processo mai. Intanto la Lega fa sapere che le firme per i referendum sulla giustizia presentati con i radicali sono arrivate a oltre 350 mila. Possiamo superare il milione? Ha commentato Matteo Salvini. E' un'altra tensione in Tunisia, perché il Presidente ha sospeso il Parlamento e si durato il Premier, dopo che miliardi di persone erano scese in strada per protestare contro la gestione da parte del governo, l'emergenza sanitaria. A Tunisi, ieri notte, la gente è scesa in strada per festeggiare. Il Presidente della Repubblica, Kais Saïed, dopo una riunione di emergenza con i vertici dell'esercito, aveva appena annunciato la sospensione per 30 giorni del Parlamento. E' il licenziamento del Primo Ministro, Ishem Mescici. Dura decisione, arrivata dopo una giornata, quella di ieri, 25 luglio, 64esimo anniversario della Repubblica, di forti proteste contro il governo. Migliaia di cittadini, sfidando le restrizioni anti-Covid e il caldo torrido, avevano marciato in diverse città contro i fallimenti dell'esecutivo. La difficile situazione economica e sociale, aggravata dalla cattiva gestione della pandemia. Oggi la Tunisia è uno dei focolai più pericolosi d'Africa. Nella capitale, i manifestanti si erano radunati davanti al Parlamento, gridando slogan contro il Partito Islamico e Nada e il Premier, per chiedere lo scioglimento del Parlamento. Il Presidente assumerà il potere esecutivo con l'aiuto di un governo a un nuovo Primo Ministro, che nominerà nelle prossime ore. Sarà inoltre revocata l'immunità ai parlamentari. Mentre lo stesso Sayed scendeva in strada per unirsi ai festeggiamenti, è arrivata dura l'accusa del Presidente del Parlamento, Rashad Ghanoushi, leader del Partito Islamico e Nada. È un colpo di Stato contro la Costituzione e ha chiamato il popolo a difendere la rivoluzione. È giallo, intanto, sulla sorte del Premier. Secondo alcuni media locali, sarebbe in stato d'arresto. Era da tempo che il Paese viveva uno stallo istituzionale. Dopo la primavera araba e la caduta della dittatura di Ben Ali nel 2011, la classe politica tunisina, troppo frammentata, non è stata in grado di formare governi solidi per attuare le riforme richieste dal Fondo Monetario Internazionale. A peggiorare le cose si è aggiunta la pandemia. Da giugno il Paese è stato travolto da una nuova ondata di Covid, con vaccini insufficienti e 100-200 morti al giorno. È dolce in fundo le Olimpiadi. Mi esprimo così perché sono arrivate altre due medaglie per i colori azzurri. La prima è storica, l'argento, nella 4% stile libero maschile, un alloro che mancava al palmarès italiano, e un argento al quale si aggiunge anche il bronzo di Niccolò Martinenghi nei 100 rana. Tutto questo va ad aggiungersi ai tre bronzi che erano stati conquistati ieri nel ciclismo da Elisa Longo-Borghini nella prova su strada di ciclismo, poi nel giudo con Odette Giuffrida nella categoria 52 kg, e infine l'altro bronzo, il terzo, quello di Mirko Zanni, nella categoria 67 kg nel sollevamento pesi. Andiamo a vedere però gli ultimi due allori per i colori azzurri. Strepito su argento della staffetta, 4% stile libero azzurra. Stanotte è arrivato il primo podio olimpico in questa specialità, grazie a miressi, cecon, zazzeri e frigo, battuti solo dagli statunitensi. Non ho parole, non so descrivere questo momento. Abbiamo scritto una bella pagina della storia dello sport italiano, così Lorenzo Zazzeri descrive la felicità di aver vinto con i suoi compagni un incredibile argento che mancava al palmaresse del nuoto italiano. Quella della staffetta non è l'unica medaglia azzurra di stanotte nel nuoto. Nicolò Martinenghi, varesino classe 99, ha conquistato un magnifico bronzo nei cento rana, chiudendo la sua gara in 58 e 33, dietro al marziano britannico Adam Pitti e all'olandese Arno Camminga. Ai 50 metri Martinenghi aveva virato quinto in 27 e 27, poi una grande rimonta nei metri finali. Sempre per il nuoto accedono alle finali Martina Carraro nei cento rana e Thomas Cechon nei cento d'orso. A Tokyo finisce il dominio di Kate Ledetzky nei 400 stile libero femminile. La statunitense è stata battuta in finale dalla giovane australiana Ariane Titmus, che ha anche stabilito il nuovo record olimpico. Oggi tutta l'attesa per la prova di Federica Pellegrini alla sua quinta Olimpiade nei 200 stile. Dopo di noi c'è Camilla Delai, che ci informerà sul traffico per Autostrade per l'Italia, poi Paolo Sottocrona torna con l'aggiornamento sul meteo. Vi segnalo anche gli ospiti di Omnibus, Andrea Del Mastro, condotto da Flavia Fratello, Paola Di Nicola, Claudio Cerasa, Camilla Conti, Luca Richeldi, Simona Bonafè e Massimo Gandolfini. A seguire il Coffee Break, in studio assieme ad Andrea Pancani ci saranno Fabrizio Barca, Massimo De Manzoni, Michele Ainis e Stefano Disegni. Per quanto mi riguarda il tutto, prossima edizione Tg la 7 alle 13.30. Grazie e buona giornata.